Tre segni che ha a che fare con una persona malvagia e frustrata. Il primo segno è che questa persona, per invidia, perché vale poco, cerca in qualche modo, senza riuscirci naturalmente, perché non se la fila a nessuno, di parlare male di te, di esprimere concetti falsi, concetti deliranti, perché questo tipo di persone delira, si crea una sua realtà che non ha nessun fondamento fondamentalmente. Questo è il primo segno. Il secondo segno è che è una persona che non è realizzata, non è realizzata nella vita, nella famiglia, negli affetti, nei figli, in niente. Sono persone che sono totalmente irrealizzate. E quindi covano l'invidia. E il terzo segno, anche questo è legato al fatto che sono persone che hanno un egoismo intrinseco, cioè un egocentrismo forte che li porta a voler primeggiare sugli altri senza riuscirci. Metti un like con l'abbonamento base, seguimi i seminari. Ciao a tutti.